Siamo in onda. Buongiorno professor Pantano, oggi 28 giugno 2020, ma oggi diciamo ricorre una data storicamente abbastanza importante per l'Italia perché proprio oggi, verso quest'ora, proprio dopo quest'ora, veniva abbattuto l'aereo di Italo Balbo. Italo Balbo è una figura diciamo per chi non lo sapesse, è stato uno dei quadriumpri della marcia su Roma, veniva da una cultura risorgimentalista nazionalista che aderì al fascismo, ma non è che si può considerare Balbo fascista, ma comunque sicuramente un sostentore del regime, ma non proprio con affinità ideologiche al fascismo. Scusi, interrompo subito una cosa. Logicamente, essendo nato a Ferrara, città come a Perugia oggi, nella quale anche le ombre erano iscritte alla massoneria fin dalla nascita, prima di nascere erano già iscritti alla massoneria, prima del battesimo, prima tutto. Quindi il giovane Balbo, quando aderì al fascismo, era imbevuto di questo concetto che era tra il religioso e l'ideologico. Esatto. Quindi non poteva mai essere completamente fascista. Adesso vada pure avanti. Esattamente, infatti l'amico Petrus Virtutis lo dice qui e fatto un ringrazio. Ma andiamo avanti. Dunque, il trovo Balbo a mio avviso e non solo a mio avviso, sicuramente è stato un grandissimo comandante militare, un grande organizzatore, un grande stratega, dovrei dire anche, da tutti condivisi. Anche allora, tra l'altro, nello storico Nino da Roma, che ha avuto contatti con generali italiani e tedeschi dell'epoca, come anche altre testimonianze di altri generali esteri, ha avuto conferma nel senso che Balbo sicuramente, se fosse stato fatto lui capo di stato maggiore delle nostre forze armate, le cose non sarebbero andate come sono andate. Era un grande organizzatore, certamente non era proprio a fine fascismo, come abbiamo appena detto, questo è vero, anche perché fra i quattro quadriumbri da Marzio Roma, l'unico che potrebbe accusarsi il fascista era sicuramente Michele Bianchi, che anche se era anche lui massone, però era un massone in più sui generi, sono proprio massone massone. Allora, io devo ringraziare un amico, ero storico, Giofranco Giulivi, che ha scritto un libro che io consiglierei di leggere, non perché per far fuori a lui, ma perché contiene delle notizie storiche veramente rilevanti che vanno, a mio avviso, conosciute, cioè il suo libro è Potevamo vincere. Ecco cosa mi ha mandato questa breve nota l'amico appunto Giofranco Giulivi, che io adesso rileggo un attimo. Dice, 80 anni fa veniva battuto in fase di atterraggio da fuoco amico il governatore della Libia comandato suprema delle truppe in Africa centrionale italiana, il marasciò dell'aria Italo Balbo. Quadriumbri della Marzio Roma, pioniere dell'aviazione, trasvolatore atlantico, osannato in tutto il mondo, ed è vero. La sua morte lasciò un alone di dubbi, mai dipanarsi con certezza, uno dei tanti misteri italiani, che poi ho cedito nel proprio mistero. Poi dice, e lui poi, a mia persona dice, caro Balbo, a me personalmente dice, Balbo era antitedesco, ma innanzitutto era un patriota italiano, è vero. Mai avrebbe sabotato la guerra come altri fecero. Io penso invece che nei vertici delle forze armate, specialmente della regia marina, qualcuno aveva paura che Balbo in Africa settentrionale, cioè italiana, vincesse la guerra contro gli inglesi, arrivando al canale di Suez, in questo caso, e costringendo di fatto l'Inghilterra ad abbandonare l'intero mediterraneo, con possibile congiunzione con l'Africa orientale italiana di Amalia d'Aosta. L'Italia avrebbe costretto la resa in Inghilterra, facendo di fatto vincere la Germania. Infatti a lui non furono mandate le risorse necessarie che avevamo, l'armata del Po, né gli automezzi necessari. Poi dice, quando il 25 giugno il Duce, comandante supremo per delega reale, ordinò a Badoglio di inviare in Libia tutto ciò che era disponibile, dice, nulla fu mandato, salvo 70 kg armati M a Tozzi e Bocconi, sbarcati a Tripoli e non a Tobru. Né da Badoglio né da Pricolo, non a Balbo, non a Graziani dopo. Fino ad agosto del 40, Malta non era un problema, c'era Parenzi. Poi dice, né le televisioni corrazzate, né le due motorizzate, né le tre auto trasportate, si mosse dall'Italia. Né Pricolo inviò caccia a bombardieri, continuando, anzi, a ricevere e pagare i BA 88 che non volavano, cioè l'aereo bisoleto. E queste cose lui le dice anche nel suo libro. In effetti, allora, qui mi viene in soccorso il generale Luigi Caligaris, già capo stato maggiore delle forze armate tra gli anni 80 e anni 90, il quale, ho una mia email che gli ho mandato verso la metà degli anni 90, mi ha risposto nello stesso modo in cui mi ha risposto adesso questo signor Gianfranco Giulivi. E quindi significa che, insomma, che la morte di Balbo, probabilmente, quell'incidente fu causato apposto anche per questo, anche se, a mio avviso, da quello che ho potuto leggere e informarmi su questo caso, si trattò sicuramente di un errore della contraerea, diciamo, italiana, che non si può distinguere in un momento di confusione, perché gli inglesi avevano prebombardato Troubrook da pochi minuti, non si può distinguere che l'aereo che arrivava era italiana, non inglese, e quindi Balbo, purtroppo, fu colpito in modo malevole, anche se qualcuno ha sospettato, ma, cioè, qualcuno ha sospettato di che senso, qualcuno, qualcuno idiota, ha sospettato che addirittura Mussolini avesse voluto provocare quel, diciamo, quell'abbattimento, quando sapeva benissimo che non è affatto vero, perché Mussolini tutto poteva fare, non faceva ammazzare i nemici suoi, quelli veramente pericolosissimi, non vedo perché avrebbe dovuto farlo con Balbo, che almeno nei confronti di Mussolini non aveva nessuna verletà omicida, almeno fino a quel momento, poi magari se fosse vissuto fino al 25 luglio, se le cose fosse andate male, beh, probabilmente, sicuramente Balbo avrebbe votato contro Mussolini, ma da qui a dire che Mussolini avrebbe ucciso Balbo è una panzanata enorme, poi si parla anche dell'invidia che Mussolini provava per Balbo perché tutto il mondo era conosciuto, era sannato, eccetera, eccetera, ma a me mi pare che questa invidia è un po' strana, perché è un po' strana? Perché Balbo fu rimosso dall'Arenautia come comandante supremo e fu rimosso per un motivo molto preciso e che dopo ne parlo con lei, perché qui poi entra in balbo un'altra notizia a questo punto, cioè Balbo fu rimosso in Libia, ma fu un po' mandato in Libia con un grado superiore a Mussolini, cioè vice-re governatore della Libia, quindi se Mussolini era invidioso di Balbo non l'avrebbe mandato in Libia come vice-re, l'avrebbe mandato in un'altra posizione, all'inferiore, invece cosa non è successo? Poi, anzi, Mussolini e su Balbo avevano una grande ammirazione e stima per il grande organizzatore che era, non a caso, come le sa, Fasor Pantano, la Libia sotto Balbo e con un obbligo degli anni di grande prosperità di grande progresso economico e sociale, eccetera, con tutte le infrastrutture che lui fece da cominciare dalla Balbia, una statale lunga 1600 km, fatta nel giro di 7-8 mesi e anche altre opere che lui fece fare, quindi Balbo non solo fu un grande militare, un grande comandante, un grande stratega, ma anche un grande governatore e questo penso che lo possiamo dire. Tra l'altro, lei ha toccato certi argomenti circa l'invidia di Mussolini, uomo come tanti altri, ma che non aveva caratteristiche di invidia, aveva semmai in forza del suo ruolo politico perché era capo assoluto del governo, purtroppo in subordine alla monarchia della quale era sequente, avrebbe potuto, come ha fatto in moltissimi casi, non promuoverlo, ma rimuoverlo e basta. Se avesse avuto qualche idea distorta o contraria alle attività di Balbo. Circa l'invidia assolutamente lo escludo, perché bisogna guardare una scala di valori. Sulla faccia della terra, Balbo sì, ha avuto una risonanza con le sue non trascurabili imprese che erano, dati i tempi, rapportate ai giorni nostri, superiori a quelle enfatizzate, per esempio, che hanno riguardato i vari uomini mandati nello spazio dagli anni 60 in poi. Balbo era un personaggio di livello mondiale, sì, ma il personaggio di livello mondiale superiore a chiunque altro era indubbiamente Mussolini. Oserei dire che forse, se la mettessimo su una bilancia impossibile ad aversi nella storia, forse l'uomo del ventesimo secolo fu proprio Mussolini, più di Lenin, più indubbiamente di Stalin, e anche più di Hitler, addirittura più di Roosevelt, perché noi più volte abbiamo spiegato che Roosevelt, che ha dominato per quattro legislature il sistema politico americano, quando ha dovuto però muovere il primo passo, lo ha fatto mandando, e lei lo sa benissimo, in Italia, tecnici a istruirsi sul da fare. Sì, sì. E poi questi applicarono quello che poterono applicare, quello che impararono in Italia alla situazione americana, che era un po' differente, perché essendo ancorata al sistema, per esempio finanziario, a sistemi delle banche, eccetera, aveva dei vincoli, cosa che Mussolini non aveva e che tant'è vero che aveva inventato le leggi bancarie italiane, che erano al di fuori, al di sopra di tutti gli altri sistemi mondiali. Quindi la invidia la lascio, perché queste sono illazioni nate nel dopoguerra. Sì, lo so, lo so. No, attento, noi lo sappiamo, ma chi ci sta ascoltando, che sicuramente non ha la mia età, perché credo di avere pochi ascoltatori che abbiano più di 82 anni, chi ci sta ascoltando, e mi auguro di averne, ma chi ci sta ascoltando è sicuramente più giovane, non ha idee di graduazione dei fatti storici in rapporto al momento al quale ci stiamo riferendo, ma riporta le idee che ha raccolto anche a scuola, anche da, dai si dice, guardi, una sciocchezza abissale, ancora oggi, ancora ieri in Raistoria ho sentito dire la Repubblica di Salò, noi sappiamo che non è mai esistita una Repubblica di Salò, però gli italiani si sono abituati a questa boiata. Perché? Perché non è mai esistita. La Repubblica Sociale Italiana, ripetiamolo, aveva una sola capitale, che ha anche perduto territorialmente, Roma. non ha mai indicato Salò in alcun senso, ha solo usato Salò per un ministero e mezzo. Ecco, tanto per essere precisi su questo. Adesso andiamo un attimo a Balbo, da lei giustamente tirato in ballo, con le considerazioni del signor Giulivi che mi paiono molto centrate. Balbo, io l'ho già detto, era ferrarese e quindi naturalmente massone e naturalmente fazioso. Vogliamo un esempio? Vogliamo un esempio che oggi in Italia nessuno può contestare? C'è un concittadino di Balbo che tutti i giorni ne inventa qualcuna e appare in televisione, secondo me un giorno di questi apparirà anche con sedere scoperto, che si chiama Vittorio Sgarbi. Ecco, Sgarbi è un esibizionista estremamente fazioso, anche sveglio, anche preparato, che usa qualsiasi espressione, che poi vengono travisate dagli altri come è successo l'altro giorno con le donne in Parlamento, per evidenziarsi. Altrettanto possono aver fatto i personaggi di Ferrara. Balbo riuscì a mettere insieme una sua corte, non in antagonismo a Mussolini, nella quale a Ferrara, sotto l'ala protettrice di Balbo, hanno prosperato in molti. Per esempio aveva un suo quotidiano, il Corriere Padano, che era un giornale dei tanti giornali della provincia italiana che aveva voce in capitolo. Attento, fermiamoci un attimo sulla funzione dei giornali. non era il popolo d'Italia l'organo ufficiale del partito fascista. Lo era nominalmente perché inventato da Mussolini e quindi appartenente alla famiglia di Mussolini, ma in un certo senso era un giornale un po' mattone, stavo per dire. Non l'ho detto, ma l'ho detto. Ah sì? Cioè uniforme. Lo disse anche Dona Rachele. Uniforme, eccetera. E così doveva essere, perché uscito dalla conduzione quotidiana l'inventore, il Benito, e arrivati i successori, nessuno aveva l'estro del Benito che inventava ogni giorno un minestrone nuovo. Però, esisteva un pullulare di quotidiani di provincia, ciascuno dei quali diceva la sua. Guardi, in un regime totalitario o dittatoriale, ognuno diceva la sua. A partire dal Corriere della Sera, con la stampa. Adesso cito il giornale della mia città, l'Arena di Verona, ma a Roma, il Messaggero, i giornali del Sud, i giornali del Nord, che erano tanti, a Firenze, i Quotidiani, eccetera, ognuno dava un suo là, in un coro che era apparentemente monolitico, perché era monolitico, ma dove ognuno poteva suonare a suo piacimento lo strumento giusto, al momento giusto. Non è che uno si smettesse a suonare la nonna di Beethoven, mentre gli altri suonavano, che so io, Mahler o Shostakovich. Nell'ambito della nonna di Beethoven, ognuno suonava lo strumento suo. Però, nelle righe, ogni tanto uscivano delle contestazioni, dei punti di vista, e questo è successo, sia durante il regime, che durante la Repubblica Sociale. Addirittura la Repubblica Sociale, prendo ad esempio i famosi giornali di Alessandria, che furono irriverenti contro tutto e tutti, dove c'era una, forse eccessiva, irriverenza e libertà. Ma era il momento della Repubblica, nella quale bisognava far pagare i conti al passato. Adesso, ritorno a Balbo. Balbo aveva creato una piccola corte, aveva creato una piccola corte, Balbo, di suoi uomini di fiducia, e a capo di questa, non ho capito, tra cui Nello Quilici, la famiglia Quilici. Ecco, a capo di questa, direttore, andò Nello Quilici, che era una persona molto preparata. Aveva dei precedenti di analisi storiche, è fondamentale, peccato non lo abbia qui a portata di mano, lo ho in archivio. Il volumone, in effetti sono due, sulla Banca Romana, ma Nello Quilici ha scritto molto altro sulla storia della Banca Romana. Interessantissimo. E come giornalista, era un giornalista acuto, che dava spazio a personaggi di varie gamme. Mio padre ebbe una polemica con il Corriere Padano, proprio nel 1932, perché quando uscì, per volere di Luigi Razza, il famoso libro sui sindacati, i salari dei braccianti nell'agricoltura, edito dal sindacato fascista dei lavoratori dell'agricoltura, preseduto da Luigi Razza, questo libro che diceva la verità cruda, e quindi denunciava che la situazione bracciantile italiana, provincia per provincia, con diagrammi provincia per provincia, con una ricerca seria, non era consona a ciò che stava succedendo nel 1930-31, cioè questa rivoluzione vera di ordine morale, e anche sostanziale negli animi degli italiani, il Corriere Padano fu uno dei più feroci che chiesero addirittura il sequestro e la soppressione del libro. Operazione fugata da Mussolini, il quale, chiamato a colloquio Razza, e avuto la dimostrazione che il libro era una cosa seria, nemmeno l'Istituto di Statistica era riuscito a fare ciò, ma le ricerche furono fatte dall'Ufficio Statistica preseduto da mio padre del sindacato, ha avuto questa conferma, non solo disse il libro permane, ma da domani mattina gli diamo dentro con le bonifiche che erano già state intraprese, perché nel Veneto, dove sta in questo momento lei, andavano a gonfie vele, perché anche al sud è, però le bonifiche pontine sono nate immediata, minuti dopo questa decisione di Mussolini, non giorni, minuti dopo. Accidenti. Allora come vede, e lì chi fu? fu proprio nel Corriere Padano questo professore dell'Università di Ferrara, Paolo Fortunati, nel dopoguerra diventato addirittura senatore comunista, e come vede ecco la faziosità di questa gente, che aveva chiesto quello che ho spiegato. Circa Nello Quilici, io posso con certezza, senza essere smentito da alcuno, perché ho frequentato la famiglia Quilici successivamente, negli anni della mia gioventù, negli anni dal 70 in poi, direttamente e indirettamente. Posso dire questo, che purtroppo, con la morte di Balbo, che aveva sul suo aereo, anche Nello Quilici, ci sono le fotografie di alcuni istanti prima di salire nell'aereo, e quindi di muoversi e di partire per il viaggio fatale, con la morte di Nello Quilici. Purtroppo. La vedova ed i figli che ricevettero tutti gli onori, che ricevettero tutte le spettanze in un regime che non gratificava in senso monetario alla grande i suoi gerarchi e gerarchetti, ma la vedova, la Mimì Quilici, rimase in grosse difficoltà, visto che avevano un dazzo di vita di un certo genere. Non seppe adattarsi a questo e nel dopoguerra, ma nel dopoguerra, nemmeno durante la Repubblica Sociale, Ayo Mamma, qui e là, istruì i due figli a una specie di rancoroso antifascismo raccolto parzialmente dai due figli, non con molto entusiasmo, tant'è vero che Folco Quilici ebbe successo con le sue ricerche sottomarine, con i suoi documentari, eccetera, ma lei servò sempre rancore sostenendo quello che si sostiene adesso, ma in maniera sconsiderata, cioè che possa essere stato un attentato, ma c'era semplicemente il fatto che se aveva una disponibilità di dieci, il giorno dopo la morte ha avuto una disponibilità di otto. Probabilmente può aver perduto la disponibilità dell'automobile che spettava, dico, è un'ipotesi, che spettava il direttore di un giornale, ma non spettava certo la vedova. se la vedo è vedova, che c'entra con la funzione del marito. Ecco, ho detto una, mi sono riferito ad un elemento di ordine pratico di questo genere. Come vede, tutta l'operazione montata in danno delle prerogative perdute fu soprattutto dovuta a un fattore viscerale di una donna che ovviamente che rispetto, ma essendo donna ha ragionato come ho detto io visceralmente. Invece, per quanto riguarda Balbo in sé, non va dimenticato che è morto a giovanissima, in giovanissima età. Se non ricordo male, ha 41 anni. Sì, sì, più o meno quant'è lì aveva. Ecco è. E guardi, un personaggio che appena trentenni diventa addirittura il capintesta del sistema aeronautico moderno italiano. Addirittura organizza quel popò di edificio che è il Ministero dell'Aeronautica a Roma. Un edificio splendido fatto fare da architetti moderni con elementi decorativi inimmaginabili ancora oggi di straordinaria bellezza ma non è tanto quello perché mi si può dire vabbè sarebbe servito a lui o ai suoi subentranti ma organizza l'Aeronautica militare in chiave moderna. tanto è vero che compie le famose molteplici imprese perché la prima se non ricordo male fu quella verso l'Europa orientale verso Odessa poi ci furono le altre poi ci furono le trasvolate atlantiche e compagnia bella in Brasile e poi quella più clomoroso più Nord America di Nord America Chicago eccetera New York vogliamo dire che allora nessuna aviazione era in grado di condivare l'impresa ecco di mettere insieme una venticinquina di idrovolanti con tutta l'organizzazione logistica che richiedeva gli appoggi a terra perché a quell'epoca non c'era mica il radar non c'erano i collegamenti radio così facili come oggi e quindi logisticamente eccetera quindi adesso per stringere su di lui fu un organizzatore formidabile e come tale quando fu mandato in Libia fu altrettanto organizzatore formidabile tant'è vero che a un certo punto nell'ambito della sua carriera dove poi in Libia c'era pure passato a Badoglio nella nella sua carriera si avvale anche per l'edificazione in Cirenaica di un signore che immediatamente dopo viene nominato e che era il signore al quale ho alluso prima Luigi Razza ministro dei lavori pubblici il quale impianta in Cirenaica ma in pochissimo tempo tutto il sistema dei grandi villaggi e delle zone di bonifica le organizza lui intendo un complesso di un numero che va da 50.000 a 70.000 insediamenti e guarda caso non solo per i coloni italiani ma anche per i libici esatto anche per i libici quindi nessun concetto di schiavismo quindi nessun concetto di sfruttamento degli individui degli indigeni chiamiamoli così ma un concetto normale oltretutto parliamo chiaro non era ancora oggi la Libia a 7 milioni di abitanti a quell'epoca gli abitanti di tutta la Libia erano un milione e mezzo quindi il discorso era complicato nei confronti degli indigeni che erano quattro gatti e che avevano bisogno di una colonizzazione ecco la parola esatta da parte di gente esperta quali furono i contadini italiani mandati a bonificare le zone eccetera 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 molti dei quali venivano da Friuli e dal Veneto Friuli guardi un po' da tutta Italia perché ce ne furono anche di meridionali ma ragione lei moltissimi dal Veneto moltissimi dal Friuli io ho conosciuto persino dei siciliani di origine forse una signora mi segue ogni tanto da signora Scontrino è di origine siciliana ogni tanto approva i nostri video vive mi pare in Germania in questo momento e come vede più siciliana di così lo stesso mio amico scusi mio amico Franz Maria D'Asaro che è nato e credo sia nato in Tripolitania il mio amico l'avvocato Basile che nacque a Tripoli nel 22 sono persone tutte meridionali quindi come vede il discorso non è essenzialmente a ragione lei i numeri erano alti per i nordici chiaramente la Sicilia comunque ha avuto diversi coloni che sono adatti di questo infatti non solo coloni perché poi servì per la città di Tripoli per le altre città Benghazi eccetera servivano anche i borghesi per intenderci gli amministrativi i burocrati insomma servì un'infinità di livelli di specializzazione quindi Balbo Balbo fu un grosso organizzatore l'operazione oh un momento lei mi sta parlando del 28 giugno adesso con le date mi trovo un po' scoperto ma se non ricordo male l'entrata in guerra è del 10 giugno sì è il 20 o il 22 di giugno che a Taranto c'è un bombardamento che affonda le navi italiane nella rada no 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 è novembre 40 sì sì sicurissimo quella è l'auto di Taranto appunto 10-11 novembre 1940 ma comunque eravamo eravamo nella fase nella fase iniziale della guerra allora ci fu il giorno dopo l'11 ci fu un bombardamento a Genova ah quello sì ecco sì sì e coindici furono una serie di fatti sorprendenti immediati di reazioni all'entrata in guerra che sorpresero in un certo senso l'Italia ma qui ma qui bisogna soffermarci come è possibile che si entri in guerra con un capo di stato maggiore diciamo un capo di tutte le forze armate che dice sì sì facciamo andiamo eccetera e dà l'approvazione lasciamo stare quel fesso del re che era contentissimo di entrare in guerra perché rientrava nei suoi disegni il disfarsi di Mussolini e del fascismo esatto ma il capo di stato maggiore generale delle forze armate addirittura lascia sguarnite e lo ha accennato lei prima quando non arrivano non arrivano i mezzi invocati dallo stesso Balbo in vista di che cosa dell'elemento primo fondamentale nel quale l'Italia addirittura a livello di due o tre settimane avrebbe risolto i problemi del Nord Africa con 4-5 divisioni velocemente dirette da Tobruk ad Alessandria d'Egitto si sarebbe neutralizzata Alessandria d'Egitto e lo stesso canale così come non si è mai neutralizzata Malta e allora Malta fino all'agosto 40 come dice lo storico Gianfranco Giulini non era un problema e aveva ragione era un problema ma successivamente dopo certo la fai rafforzare la fai dire logico ma vede se si fosse diciamo demolita la roccaforte di Alessandria d'Egitto che era una roccaforte non solo militare ma navale e quindi aeronautica eccetera mi creda il Mediterraneo orientale sarebbe stato sotto il dominio italiano si si certamente con il blocco del canale di Suez si e questo non avvenne ma non avvenne perché questo non avvenne perché perché mancò l'iniziativa militare qui non c'entra Mussolini no no qui sono i gregari mancò l'iniziativa militare che qualcuno aveva invece prospettato lei stessa ma ha indicato che Balbo invocava certi si si un ammasso di 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 forze militari e di mezzi a Tobruk e compagnia bella e se non sbaglio Tobruk è a ridosso del confine egiziano esatto non è a ridosso della Tunisia però neanche 100 km chiede Tobruk allora noi che adesso abbiamo all'impronta perché lei quando mi ha telefonato prima mi ha proposto questo argomento che io ho accolto immediatamente ma senza rinfrescarmi le idee nemmeno sulle date nemmeno ma semplicemente facendo riferimento a quello che ricordo per conoscere per cognizione di causa tutto ciò però puzza da lontano circa la connivenza diciamo di un sistema badogliano dove qui la massoneria entra e come perché vede è facile parlare di massoneria ma noi non abbiamo le idee chiare anche in questo momento storico beh guarda io la più no 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 mi lasci dire la più importante branca della massoneria in questo momento storico ma anche in quel tempo non era quella di sua maestà britannica che aveva nel duca di Kent cioè nel cugino il gran maestro della massoneria nominalmente però dipendente dal re britannico era il clan il rito la liturgia statunitense molto probabilmente così come Montini anche Badoglio invece apparteneva al clan statunitense e molto probabilmente in subordine rispondeva anche Vittorio 3 eh sì queste sono illazioni mie non sono in grado di dimostrarle su due piedi i fatti però hanno dimostrato quello che io le voglio dire che una delle persone che sono avezze questi ambienti diciamo massonici mi hanno confermato che eh Badoglio nella massoneria aveva un grado due più di Vittorio 1 e 3 e poi Badoglio spari che avesse anche elementi per ricattare il re per far sì che il re si accordasse alla sua strategia che era quella di far perdere la guerra tant'è vero che adesso lei vedrà tra pochi giorni avremo prove dell'incontro di Vittorio 1 e 3 con alcuni suoi eh sottoposti generali sono delle spie inglesi che erano in Sicilia dal novembre 1940 attenzione alla data novembre 1940 cioè cinque mesi avevamo in guerra avevamo le spie inglesi ospitate a casa nostra da qualche clan mafioso diciamo quelli occulti e queste spie erano un ufficiale di luce scozzese si chiamava James McGregor addirittura che c'è uno so che io però lì io però lì non darei un eccessivo peso a questa piccola colonia di spie che facevano il loro mestiere da tempo perché noi noi l'abbiamo già dimostrato a Roma avevamo in quel momento al 10 giugno del 40 un da 1200 a 2000 poi 2000 diventarono nel tempo agenti a Roma delle potenze straniere accreditati nella qualità di diplomatici degli stati in guerra contro l'Italia ma accreditati col Vaticano e quindi abbiamo già detto mille volte erano in grado di segnalare con i canali internazionali del Vaticano che aveva un sistema telefonico e radiofonico proprio anche quante volte faceva pipì Mussolini e dove si trovasse al momento di fare la pipì è vero è vero è vero tant'è vero che si pensò addirittura di assassinare Mussolini c'è un piano questo l'ha detto uno storico inglese mi ricordo il nome che Churchill insomma voleva a certo punto farlo fuori in qualche modo poi non so perché non fu fatto addirittura si pensò anche di bombardare Roma e di colpire il palazzo Venezia sì ma vede ma vede quella sarebbe stata una sciocchezza forse clamorosa eccetera perché aveva la qualità Mussolini di essere imprevedibile circa gli orari in quanto si muoveva in automobile da solo sì sì con l'autista lavorava di giorno di notte aveva una vita anche movimentata potrei aggiungere del salace siccome siccome aveva l'inizio delle donne magari a bombardarle in un momento nel quale era a due chilometri da lì o a 300 chilometri da lì a sollazzarsi con qualche signore nessuna fu mai violentata dal Benito allora ci ho detto ci ho detto ci stiamo avviando ai 40 minuti abbiamo appena appena impostato questa cosa e peraltro la da benaggine oserei dire anche di Mussolini nei confronti sia di Savoia che del sistema italiano perché per esempio del sistema militare non seppe far piazza pulita imponendo un criterio fascista vede l'aeronautica in un certo senso si avvalse di uomini nuovi e perché perché l'aereo nacque negli anni 10 e 20 e quindi insediatosi il regime diventato regime nel 25 creò dal nulla dei militari che erano piloti e tutti quelli dei servizi aeronautici l'arma forse più sensibile al criterio dottrinario fascista fu indubbiamente l'aeronautica però c'erano delle masse militari che furono immagazzinate nelle camicie nere nei famosi battaglioni M e compagnia bella ma separati dal sistema militare generale addirittura in marina fu quasi impermeabile la situazione perché i marinai erano più legati ai criteri della casa reale e ai criteri massonisti allora ho finito ho finito questo fu semmai il punto unico di forza l'errore fatale e determinante fu quello di non aver sovvertito il sistema militare o l'Italia aveva effettivamente un regime fascista o se ha avuto un regime fascista e l'ho avuto non l'ho avuto nel senso militare quello fu un errore fatale che abbiamo pagato come popolo ecco io mi fermo qua ha ragione ma nell'arrivo italiano vogliamo ricordare che c'erano dei piloti che avevano fatto tesoro della scuola di Balbo ed erano anche degli innovatori dei ricercatori che i quali se fossero sopravvissuti avrebbero sicuramente o meglio se non ci fosse stato una certa sabotaggio soprattutto se non ci fosse stato una loro strana scomparsa questi quattro aviatori di cui volessero leggerò il nome avevano già in mente di fare degli aerei italiani che erano come minimo a livello dello spitfire inglese e questi aviatori i ricercatori tecnici che sono stati utvisi dal 37 al 39 in modo molto sospetto cioè si parla di allenamento sono Ambrogio Colombo Jacopo Colocarducci Alfonso Chiapparo e Giovanni De Briganti i quali erano anche sotto la regia del generale Aurelio Ricchetti che veniva dalla Germania con innovazioni tecniche perché aveva avuto l'incarca di Mussolini di creare dei cararmati sul modello tedesco questo però anche lui muore alla fine alla fine del 39 stranamente questo questo Ricchetti cioè per chiaramente che succede qua e qui il grave sospetto è che chiaramente dietro le quinte c'era un gruppo di persone che avevano un altro scopo altri interessi a far sì che l'Italia mai e poi mai potesse possedere armi che potevano mettere in pericolo gli alleati e soprattutto l'innovazione anche tecnica e strategica che sarebbe stata veramente letale per l'inglese in quel momento tanto è vero che c'è un rapporto segreto di Andrew Cunningham dell'ammiraglio della home fleet britannica e mediterranea che lo conferma qui c'è un nome cognome di questi ufficiali ricercatori tecnici italiani che mi hanno mandato dall'estero esattamente dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra di qualcuno che sa tantissime cose no guardi guardi io avevo traccia di qualcosa di questo genere però le aggiungo qualcosa che è un po' più autorevole nei documenti riguardanti i fatti personali di Bruno Mussolini ad un certo punto muore il 7 agosto del 41 ma diciamo all'inizio della guerra Bruno che si trova investito e sente il dovere di rientrare perché si era appartato dall'aeronautica nelle questioni aeronautiche viene inglobato nel sistema dei grandi aerei tant'è vero che muore al 6 7 8 volo del P108 aereo che fu costruito in 24 più 24 esemplari 48 in totale ma mentre stava in quel settore lì quindi di aerei che dovevano avere la caratteristica di lungoraggio e di carico operazione che negli Stati Uniti era molto avanti perché era impostata fil dal 1938 39 con la Boeing sì no anche prima mi parla 35 no no la Boeing che nel 39 viene nazionalizzata mentre gli Stati Uniti davano da intendere che sarebbero stati neutrali in una guerra che ancora non era nata perché la nazionalizzazione della Boeing anticipa di molti mesi l'inizio della guerra del settembre del 39 in Europa Bruno a un certo punto sente il dovere di scrivere a suo padre ed era un capitano sì e dice voglio tornare nella caccia perché vedo che qui le cose vanno alle lunghe la preparazione di aerei importanti e potenti è lentissima farraginosa ancorata o viziata da bassa burocrazia eccetera c'è corrispondenza di questo è più utero il grave è questo che le segnalazioni probabilmente raccolte dal padre che era molto attento non andarono oltre a questo livello mentre invece avrebbe dovuto pugni dati sul tavolo il padre provvedere immediatamente se non altro alle indicazioni alle richieste di un figlio che guarda caso poi muore il 7 agosto del 41 quando le cose andavano ancora bene per noi perché fino al giugno del 42 le cose per l'asse andarono benissimo ecco fermiamoci qua direi di sì ha ragione sono d'accordo con lei perché lo conferma bene anche i fatti storici ne parleremo in seguito ne parleremo in seguito visto che io scrissi ormai credo dieci anni fa più di dieci anni fa scrissi un accenno di memoria proprio su Bruno Mussolini nel mettere insieme un volumetto richiestomi da un circolo sportivo di Roma il tennis club Parioli che poi ottenutolo non ebbe il coraggio di acquisirlo e farlo integralmente suo perché spiegai che dalla morte di Bruno da due giorni dopo fino al 26 luglio 1943 l'attuale tennis club Parioli di Roma fu intitolato a Bruno Mussolini ed ebbe persino all'interno delle palazzine in Viale Tiziano da dove sono io in questo momento queste palazzine distano 400 500 metri da casa mia esistono ancora non sono più del tennis club Parioli ebbe in quelle palazzine 3-4 sale confortate dai cimeli di Bruno i cimeli personali la bicicletta la motocicletta le divise lasciati dalla famiglia lì poi ovviamente andati in malora scomparsi o dilapidati molto probabile da quelli che è successo da quelli che sono riveduti io questo lo vuol dire quindi la ringrazio perché era doveroso ricordare questo gerarca anzi dovremmo anche ricordare Farinacci su cui sono piovuti una marea di sciocchezze lì siamo un altro un altro uomo però Vigio è coerente con quello che lui pensava cioè che voleva che il fascismo si disintossicasse di certi compromessi non a caso lo chiamavano la suoccia del regime non a caso quando Monsonini aveva bisogno di attaccare qualcuno e dava fastidio chiamava Farinacci che poi lui sul crimine nuova ci pensava lui a bacchettare era un gioco delle parti che facevano loro e questo ho raccontato l'amico nostro caro amico scomparso Arturo Sodenari che il padre che era collaboratore di Farinacci ti raccontava queste storie che avvenivano di sera tra Mussolini e Roberto Farinacci a Cremona va bene la saluto grazie questa bella puntata abbiamo avuto un bel pubblico io aspetto lei per le solite catture delle immagini subito adesso le mando subito chiudiamo chiudiamo l'ufficialità bellissimo buonasera buonasera a tutti grazie per il seguito buonasera grazie a tutti